cosa ci racconta gianni d'arconza attraverso i suoi versi nel libro l'immensità del caos edito da raffaelli editore un libro di poco più di 50 pagine con testo inglese a fronte metto il link nell'info box di questo video il libro non è un una versione poetica di leggi fisiche quantistiche che regolano l'universo ci dice fondamentalmente attraverso la poesia gianni d'arconza che il microcosmo come macrocosmo racchiude in sé tutte le possibilità di esistenza da tutte le pandemie possibili a tutte le restrizioni possibili a tutte le libertà possibili tutti gli amori possibili insomma ogni cosa può essere condensata nell'infinitamente piccolo come nell'infinitamente grande esiste un però che è il tempo il fattore tempo che inesorabile scorre in qualsiasi dimensione anche in dimensioni alla n ci dice d'arconza il tempo che è necessario impiegare per essere presenti a noi stessi ma soprattutto ci dice come il tempo non ci debba far sfuggire dalle mani in un battito d'occhio ciò che è importante famiglia amori e tutto ciò che è per noi veramente di valore